Il generale Andrea Rispoli, comandante interregionale Ogaden, è tornato questa mattina ad Avellino al comando di via Brigata, dove nei primi anni 2000 ne aveva occupato il ruolo apicale. L'occasione è un briefing con l'attuale comandante provinciale colonnello Luigi Bramati per tenere sempre alta la guardia contro la criminalità rispetto a 19 anni fa, quando ero qui come comandante provinciale. Il mondo si è fatto sempre più complesso, di conseguenza lo è anche la gestione dei problemi, ha affermato il generale, che in mattinata ha incontrato anche prefetto e procuratore. È stata un'esperienza unica, ritornare al comando provinciale retto dal tenente colonnello è una grande emozione, però è l'occasione anche per ringraziare tutti i carabinieri che adesso stanno operando in una terra così importante, ricca di storia, ricca di tradizioni e ricca di verde. È una terra dove l'arma, grazie alla sua capillarità e alla sua presenza, 67 stazioni, 7 comandi provinciali, all'epoca non c'era la compagnia di Solofra, garantisce la sicurezza del territorio, in stretta unione vicino a me c'è il comandante provinciale, che rappresenta tutti i carabinieri di ogni ordine e grado, in stretta comunione con tutte le altre forze di polizia. Noi ci impegniamo per una buona fetta di reati, per garantire l'effettività della legge, operiamo con le altre forze di polizia, come dicevo, operiamo con il comparto forestale, per garantire questa ricchezza e questa bellezza del territorio. E come altra cosa che mi permetto di dire in questa circostanza così importante di incontro, noi cerchiamo di garantire e preservare, diciamo, questo territorio da eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata, che non sono mai evidentissime, ma l'occhio vigile dell'arma e dell'investigatore riesce a cogliere, al momento di loro a fermarsi, per impedire che possano agire ulteriormente. Quindi è una terra talvolta semplice, ma dentro questa semplicità ci sono anche molte complessità che vanno affrontate. Io ho incontrato anche il prefetto, il procuratore capo della Repubblica, con il quale il comando provinciale interloquisce direttamente e anche loro, mi fa piacere dirlo, hanno espresso il loro apprezzamento per l'operato dell'arma e l'augurio naturalmente che queste attività, che vengono svolte con dirigenza, competenza e senso della responsabilità, possano continuare a viaggiare su questo piano di ordinaria ma efficace amministrazione. La criminalità, il comandante provinciale mi ha fatto un briefing e lui, diciamo, il fulcro di tutte queste attività. La criminalità organizzata è presente in alcune manifestazioni, però complessivamente il quadro io penso che sia estremamente rassicurante. Questo non toglie che noi ci fermiamo, perché il nostro obiettivo è di alzare, come si diceva, sempre più l'asticella, perché il mondo di 19 anni fa, quando io ero qua a fare il comandante provinciale, rispetto ad oggi è sempre più complesso e quindi la gestione di problemi e di situazioni complesse impone sempre un accrescimento e un miglioramento della professionalità, che riconosco a tutti i carabinieri che operano in provincia di Avellino e nel capoluogo di provincia. Io vengo qui in primo luogo per dire una sola parola, grazie. Grazie per quello che si è fatto, grazie per quello che si sta facendo e grazie per quello che si farà in futuro, perché soltanto attraverso, almeno questa è la mia esperienza professionale, soltanto attraverso la capacità di svolgere un lavoro di squadra coordinato, dove ognuno dà il suo contributo per portare avanti e conseguire un risultato, si possono ottenere quei risultati che hanno fatto importante l'arma dei carabinieri. Io penso che, da quello che ho visto stamane, l'arma dei carabinieri cerca di mantenere e di migliorare costantemente il proprio servizio grazie al senso di responsabilità, senso del dovere, che anche nelle piccole cose, come nelle grandi, viene manifestato perché il cittadino, ecco, il cittadino, che è il nostro obiettivo finale, il cittadino abbia la sensazione di quella effettività dello Stato, perché l'arma poi rappresenta la Stato, unicamente alle altre forze di polizia, che ringrazio, sia presente sul territorio e la percezione sia sempre più positiva. Il mandante Ad Avellino nei primi anni 2000 ha dovuto affrontare una delle pagine più nere della faida tra i clan Cava e Graziano nel Vallo di Lauro. Ci riferiamo all'episodio in particolare che scosse tutto il paese, la faida in via alla strage delle donne, in via Cassese, il suo ricordo, anche come sono cambiate probabilmente le modalità criminali in quella fetta del territorio erpino. Sì, indubbiamente è stato un momento di grande feratezza che ebbe il risalto della stampa anche a livello nazionale. In quel momento il risultato fu estremamente positivo perché, se ricordo bene, erano in corso, in stretta collaborazione con la direzione distrittuale antimafia, delle indagini e nel corso di una notte, grazie, ecco quel discorso che diceva prima, all'operato e alla conoscenza del territorio di tutti i carabinieri di ordine di grado, potremmo assicurare in stretta intesa, sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria, e coloro che operano questo, i responsabili, esatto, coloro che operano questo crimine così efferato. Naturalmente è un discorso, i giovani fanno parte tra gli obiettivi, dico giusto, dell'azione di prevenzione e di controllo. È un discorso di polizia, indubbiamente, ma anche un discorso, come dice, scuole, di educazione. Io coniugo la parola scuole con la parola educazione e quindi l'educazione permette ai giovani di comprendere quello che è il pericolo di determinate condotte devianti e di vedere in queste condotte devianti non un modello ma qualcosa da discortarsi e qualcosa da migliorare. Quindi io penso che anche l'arma nelle scuole, facciamo conferenze, interventi ai vari livelli per spiegare e per avvicinare anche la figura del carabiniere che è un operatore di sicurezza e deve essere visto come qualche d'uno al quale rivolgersi per ottenere una risposta del territorio. E quindi, secondo me, il problema giovani esiste, però, se gestito a livello interforze, in questo caso a livello educativo, a livello delle altre varie istituzioni, anche a livello familiare, naturalmente, possano ottenere sempre migliori risultati per allontanare la gioventù da questo rischio, che penso che sia all'interesse di tutti i genitori e anch'io sono un genitore.